Robo Carcano, obiettivo di sequestro del reparto Valtellina, la Coppa del Mondo sulla Stelvio e di Fondazione Bormio, Mini Wine Trail e Famiglie, domenica da incorniciare, Valtellina Wine Trail, i vincitori dell'undicesima edizione, Sondrio benissimo così e martedì arriva il nuovo mister. Ultimo saluto ad Alberto Frizziero. Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Telesondrio News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione. Apriamo con la prima notizia di oggi. Nella notte di domenica i carabinieri della compagnia di Chiavenna hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 24 anni per evasione. Il ragazzo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal mese di agosto 2024, è stato avvistato dai militari nelle vicinanze di un locale a Piuro e ha tentato di fuggire, ma è stato rapidamente raggiunto e arrestato. Già noto per reati simili, è stato trasferito presso la casa circondariale di Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma passiamo a un altro argomento. Lavoratori in cassa integrazione è il rischio che se non si interviene sulla parte di copertura devastata dalle fiamme nel reparto Valtellina della Carcano, dove il 31 ottobre scorso si è sviluppato un rovinoso incendio, possa diventare ancora maggiore compromettendo la produttività dell'azienda stessa. Oggi assemblee della rappresentanza sindacale con i lavoratori proprio per studiare una via d'uscita che dovrà per forza passare per il dissequestro del reparto. Assemblee con i lavoratori dei tre turni oggi alla Carcano di Delebio, la storica azienda di produzione e trasformazione di laminati in alluminio è interessata lo scorso 31 ottobre da un violento incendio. Incendio causato, così parrebbe, dal malfunzionamento di un macchinario, un laminatoio. Furono gli stessi operai del turno della notte a dare l'allarme, ma sebbene non si siano registrati feriti, le fiamme, spente soltanto dopo sette ore, danneggiarono anche la copertura del reparto Valtellina, che da allora è sotto sequestro. Mentre la quarantina di persone qui impiegate, che al momento non possono riprendere il lavoro per inagibilità del sito, è coperta dalla CIGO, la Cassa e Integrazione Guadagno Ordinaria. Le tre assemblee di oggi, organizzate per raggiungere così i lavoratori di ogni turno, si sono svolte a porte chiuse e i giornalisti giunti davanti all'azienda per avere chiarimenti sulle finalità degli incontri, sono stati allontanati. Un atteggiamento più da proprietà che da rappresentanti sindacali viene da commentare, ma è stato spiegato di voler attendere che tutti i lavoratori si esprimano, quindi non prima delle 21 al termine dell'ultima riunione, prima di comunicare gli argomenti di cui si è trattato. Verosimilmente si cercherà di formalizzare una o più istanze alla procura per richiedere almeno il dissequestro temporaneo del reparto Valtellina, perché in caso di maltempo il rischio è che, avendo le fiamme divorato anche una parte della copertura, altri macchinari possano essere danneggiati e la ripresa della produzione giocoforza slittia ulteriormente. Va sottolineato inoltre che le conseguenze dell'incendio non sono circoscritte al singolo reparto, perché il Valtellina rappresenta un blocco produttivo fondamentale non solo per il sito di Delebio, ma anche per quello di Mandello. La gestione della storica pista a Stelvio è passata a un comitato locale, la Fondazione Bormio, guidata da Matteo Bonfa. Questa fondazione organizzerà le tappe della Coppa del Mondo di sci alpino il 28 e 29 dicembre. È stato raggiunto un accordo con la Fisi, apprendo a un anno e mezzo di sfide, in vista delle gare olimpiche di Milano-Cortina 2026. A partire da oggi, la gestione della storica pista a Stelvio è stata affidata a un comitato locale. È stata istituita la Fondazione Bormio, sotto la leadership di Matteo Bonfa, che il 28 e 29 dicembre affronterà per la prima volta l'importante compito di organizzare le tanto attese tappe della Coppa del Mondo di sci alpino, includendo un Super G e una discesa sul celebre pendio della Stelvio. Recentemente è stato raggiunto un accordo tra la Fisi e il nuovo comitato di organizzazione, aprendo la strada un anno e mezzo ricco di sfide e opportunità. La Fondazione Bormio non solo si occuperà della Coppa del Mondo sullo Stelvio, ma fungerà anche da punto di riferimento organizzativo per le gare olimpiche di Milano-Cortina 2026, dove l'Alta Valtellina ospiterà le competizioni di sci alpino maschile e sci alpinismo, quest'ultimo sport che debutterà ai giochi olimpici. Inoltre, la Fondazione Bormio si occuperà dell'evento di prova di sci alpinismo, che si terrà sulla pista dello Stelvio nel febbraio 2025, dal 21 al 23. Il programma della Coppa del Mondo FIS 2024-2025 sulla pista Stelvio inizierà invece giovedì 26 e venerdì 27 dicembre, con due giorni di allenamento in vista della discesa libera di sabato 28 dicembre. Domenica 29 dicembre il Super G concluderà il programma, ancora una volta sulla pista Stelvio. Se la Wine Trail è stata un successo, altrettanto si può dire di quanto è andato in scena ieri, protagonisti i più piccoli e le loro famiglie. L'evento, oltre che internazionale, si vuole affermare come festa di tutti. E l'obiettivo si può dire centrato. Una grande festa che anno dopo anno tende ad allungarsi verso quello che è l'obiettivo dichiarato, una valtellina Wine Trail lunga una settimana. Di certo questa è stata l'edizione che ha aperto, nel vero senso del termine, ai più piccoli e alle famiglie, con una domenica dedicata che è stata apprezzatissima, oltre che baciata dal sole. Giornata fantastica, giornata riservata alle famiglie, a tutti, è una festa. Valtellina Wine Trail è una festa per tutti. Per il secondo anno consecutivo la Banca Popolare di Sondio è stata main sponsor della Mini Wine Trail, la gara rivolta ai più piccoli. L'evento, organizzato in collaborazione con la polisportiva Al Bosaggia, ha visto circa 300 giovani tra i 6 e i 17 anni confrontarsi in una gara tra le vie principali della città. Per tutti arrivo nello stesso punto dove il giorno prima sono stati accolti i 3.500 runner adulti iscritti alle gare principali di 42, 21 e 13 chilometri. La Wine Trail non è solo competizione del sabato, ma è anche una festa per le famiglie, per le nuove leve che poi saranno quelle che saranno i protagonisti della gara del sabato. Alle 11.30 via anche alla camminata non competitiva, un momento aperto a tutti. Siamo contenti, chi viene da noi ci dice vivete in un posto meraviglioso, dobbiamo essere anche noi consapevoli di questo. L'evento è proseguito fino al tardo pomeriggio con giochi, laboratori e quiz per le famiglie. Tutti i presenti hanno potuto fare conoscenza anche con un coloratissimo personaggio. La nostra mascotte è il nebbiolino che è per i bambini, ma comunque perché rappresenta il nebbiolo della Valtellina. Parliamo ancora di Wine Trail, podio alto tutto tricolore nella maratona da Tirano a Sondrio con le vittorie di Bertoncini ed Esco, di respiro internazionale con l'Azzagui e Farley nella mezza maratona da Chiuro al capoluogo valtelinese e per finire tutto futuro con le Fure Bonzi nell'intenso e veloce Sassella Trail da Castione Andevenno a Sondrio. Alla sua undicesima edizione la Wine Trail è stata una vera battaglia, grazie alla qualità degli atleti in gara. Nella prova maschile il piemontese Mattia Bertoncini ha conquistato il primo posto, seguito da Andreas Reiterer, vicecampione del mondo di specialità e al terzo posto lo spagnolo Mario Olmedo a 1 minuto e 38 dal vincitore. Una bellissima gara, un bel percorso, tutto su e giù tra i vigneti, un gran tifo, mi sono divertito davvero un sacco. Tra le donne invece la campionessa Elisa Desco ha totalizzato la sesta vittoria in 11 edizioni. Argento per Alice Testini che migliora il terzo posto dello scorso anno, mentre l'inglese Louise Mitchell ha conquistato il bronzo. Ringraziamento speciale a questi ragazzi che organizzano una gara magnifica. Nella mezza maratona il marocchino El Azawe ha impressionato. Ottimo secondo posto per Alberto Wender, seguito dal britannico Grant Finlay. Nella gara femminile la giovane Gemina Farley ha sorpreso, seguita da Martina Bilora e da Saracampigotto. Sono contento perché ho fatto una nuova esperienza qui, un'altra gara, è veramente molto molto bene. Nella Sassella Wine Trail, prova intensa e muscolare, il francese Le Fure ha trionfato, battendo il compagno Daniel Antonioli, di appena 3 secondi. Terzo posto per Francesco Bongio. Nella categoria femminile Vivian Bonzina prevalso su Claudia Corral e Elisa Sortini. Oggi è la mia prima esperienza in questa Valtellina Wine Trail, la gara mi è piaciuta tantissimo perché è una gara che adatta a me, è una gara molto corribile. Non solo competizione, anche emozione per i 24 equipaggi di Jolette, che hanno vissuto il clima della Valtellina Wine Trail, standing ovation per la staffetta Benedetta Bisogno di Tempo, contribuendo a raccogliere fondi per la ricerca sulla sindrome di San Filippo. Prima vittoria stagionale alla Castellina, che porta la nuova Sondrio Calcio anche fuori dalla parte pericolosa della classifica. Ma non solo. Domenica, in casa del Fanfulla, i biancazzurri si presenteranno anche con il nuovo allenatore. Domani, l'ufficializzazione. Finalmente la prima vittoria in casa. Questa vittoria in casa ci mancava. Questi tre punti erano fondamentali perché poi erano con l'ultima in classifica e ne valevano sei. Siamo saliti in classifica a un buon posto, fuori dalla zona pericolosa. Per il presidente Rigamonti, difficile desiderare di più. Successo mondiale della Wine Trail e prima vittoria stagionale alla Castellina con reti di Badige e Capitan Busto, tutto in un weekend. Abbiamo dimostrato che siamo uomini veri, intelligenti, che possiamo giocare tranquilli e possiamo anche aggiungere i punti sia in casa che fuori. La squadra c'è, insomma, sempre più compatta e determinata. Ora l'obiettivo è portare la stessa grinta domenica prossima in casa del Fanfulla. Per allora i ragazzi, dopo quasi tre settimane dall'esonero di Alessio Bifini, avranno anche un nuovo mister. Aspettiamo un martedì il mister. Noi, penso, in queste due settimane e mezzo senza allenatore ci siamo allenati veramente con impegno, con intensità e oggi penso sia anche il frutto di queste due settimane e mezzo di sacrifici da parte di tutti perché in una situazione particolare, non difficile ma particolare, i ragazzi hanno dimostrato grande professionalità in ogni momento. Profondo cordoglio oggi incolleggiata per l'ultimo saluto ad Alberto Frizziero, conosciuto da tutti come Frizz. È stato un pilastro dell'informazione in Valtellina, ricoprendo il ruolo di direttore prima del Corriere della Valtellina e successivamente del Centrovalle. Ha anche fondato il Centro Culturale Sondrio, oltre a essere una figura rappresentativa nel panorama politico e imprenditoriale. In una collegiata gremita oggi si sono svolte le esecue di Alberto Frizziero, ex sindaco di Sondrio dal 1975 al 1985. Uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità, dato dall'amore per la città per la quale ha svolto diverse mansioni, sia politiche che culturali. Abbiamo ricordi in comune che datano dalla metà degli anni in 50 e venire avanti in ambito politico, istituzionale. È stata una persona piena di iniziative e di voglia di fare e credo che abbia anche raccolto quello che ha seminato, almeno molto di quello che ha seminato. Tante le persone che oggi hanno voluto portargli l'ultimo saluto e ricordarlo. Qualcuno ha detto un galantuomo. Certo, io aggiungo un gentiluomo. Un gentiluomo che ho conosciuto in un lungo periodo di vita politica, che utilizzava il dialogo, l'inclusione, l'aiuto, la mediazione, la ricerca, il superamento del conflitto, sempre come metodo. Oggi avremo bisogno di persone, nella vita quotidiana e in politica, che utilizzassero questo metodo. Oggi che viviamo in un contesto in cui, quando non c'è l'insulto, c'è comunque la proclamazione gridata della propria opinione. Frizz è stato un gentiluomo e ci lascia, secondo me, questa come eredità. Un metodo che superi il conflitto e che ci aiuti a trovare soluzioni comuni. Sempre ricordarlo col sorriso. Quando ho iniziato in televisione, lui era direttore. Lui poi è stato direttore di Centrovalle e mi ha insegnato moltissimo. Il Frizz era pirotecnico, un personaggio veramente che ha dato molto la città alle istituzioni. Un uomo onesto, un uomo che è al servizio della comunità. Per lui non esisteva la cattiveria, la malvagità e poi un politico tutto ad un pezzo, con la P maiuscolo. Ha lasciato un grande ricordo la città e merita veramente tanto affetto. Ciao Frizz. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSN.